Scusatemi ancora per i problemi tecnici. Allora, dicevamo che sono connessi con noi Elena Bucci e Marco Sgrosso, che avete appena visto in questo spettacolo. Elena e Marco, vi chiedo per favore di accendere le webcam e il microfono. Mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo ma non ti vediamo. Non riesco a attivare la videocamera. Allora, devi andare in basso a sinistra, cioè disattiva e attiva audio e video. Eh, ma via video mi dice che è stato disattivato dall'ospite. Ah, ok, aspetta. E allora, dunque, vi c'è... È impossibile avviarvi, dato che è stato interrotto dall'ospite. Cioè da me, quindi devo, io chiedi di attivare video. Sì, sì, ci siamo in me, sì, ecco. Sì, sì, perfetto. Perfetto. Ecco, finalmente vi vedo. Si vede che siamo entrati senza... col video e tu giustamente ci hai... Sì, siamo entrati con il video. Sì, sì. No, ma certo, ma è normale, non preoccupatevi. Allora, Marco, invece non lo vedo ancora. Io ci sono, mi vedo però. Adesso sì, adesso sì, perfetto. Eh, ok, perché anch'io devo un po' diventare pratica con questa piattaforma, perché abbiamo fatto mesi con Google Meet, adesso siamo passati a Zoom e ho anch'io un attimo di gap digitale da colmare. Allora, visto che appunto è già mezzogiorno, quindi oggi abbiamo un'oretta, ma tanto voi sarete con noi anche domani mattina, no? Sì, sì, volentieri. E che hanno fatto parte, e questo è importante perché appunto sono nomi che abbiamo già incontrato in questo percorso su Forte Braccio Teatro e che incontreremo ancora, dicevo hanno fatto parte del nucleo storico del Teatro di Leo de Berardinis dal 1985 al 2001, partecipando a tutti gli spettacoli. Dico che appunto il nome di Leo è un nome ricorrente perché, come forse è stato detto, Roberto è allievo di Perla Peragallo, quindi diciamo della storica compagna d'arte e di vita di Leo de Berardinis. Le linee poetiche della compagnia Le Belle Bandiere spaziano dalla creazione di scritture sceniche originali all'indagine sulla drammaturgia contemporanea, sto leggendo dal loro profilo Facebook, da un variegato percorso di rilettura e riscrittura di testi classici del teatro a progetti fondati sulla commissione di diversi codici artistici e sulla trasformazione e recupero attraverso il teatro di spazi spesso dimenticati o abbandonati, teatri chiusi, palazzi, case private, industrie dismesse, dalla collaborazione con altri artisti alla formazione e alla trasmissione di esperienze attraverso laboratori e seminari. Nonostante la struttura leggera, la compagnia ha creato nel tempo un nucleo stabile di attori, musicisti, tecnici e collaboratori, sia attraverso la continuità di lavoro che attuando un costante rinnovamento progettuale teso ad integrare e sviluppare le diverse attitudini delle persone che si sono avvicinate al gruppo. Pur privilegiando la continuità anche nei rapporti con enti stabili o privati che ne hanno condiviso e sostenuto la progettualità, la compagnia ha potuto conservare grande autonomia nelle scelte artistiche e nelle modalità di produzione, cercando di alimentare lo spirito di curiosità, di apertura, di non violenta sovversione e autenticità che cerca nell'arte e nel teatro. Tra i vari riconoscimenti, ad Elena Bucci sono stati attribuiti due premi Ubu come miglior attrice, il premio Miliano Raduse e il premio Istrio ANCT alla compagnia, il premio Istrio e altre muse per l'attività e il premio Eti Olimpici del teatro per lo spettacolo Les Mani e per la villeggiatura. Le belle bandiere sono sostenute da regione Emilia-Romagna e comune di Russi. Dopo questo momento di doverosa telecronaca, però insomma avete scritto anche una descrizione che secondo me è molto bella, perché dà una panoramica anche su quella che è la vostra poetica e attività, appunto anche il riferimento che fate alla ricerca di una valorizzazione per spazi altri, no? E mi sembrava bello insomma condividerla. Grazie a voi. Che cosa ci vogliamo dire dopo questo spettacolo? Che è la prima volta tra l'altro che gli studenti vedono prima di parlare con gli ospiti, quindi non so, magari lasciamo dire a loro. Io volevo scappare, scappare. Scusa, scusa Elena. Il lavoro, vedere anche attraverso il video è molto emozionante, perché chiaramente insieme a quello che vedete voi c'è anche tutto quello che ricordiamo noi, delle prove, della storia che ha avuto ogni gesto, ogni invenzione, e capiterà a tutti così, credo. Mi sembrano tutti bravissimi, tranne quello che faceva. C'è uno molto autocritico verso se stesso e gli altri mi sono sembrati tutti bravissimi e ritrovo una potenza di visione di Roberto che riesce a passare anche attraverso questo strumento che è molto controverso. Ecco, è molto bello lasciare la parola agli studenti perché sono molto, per me quanto mi riguarda, sono curiosa delle loro domande, riflessioni, ma volevo aprire un'apprendizio sul fatto che è molto importante avere questa possibilità di confronto, ma siamo tutti attenti a non scambiare il teatro con la sua trasmissione in video. Stiamo facendo uno studio e questo è un documento prezioso che in altre occasioni, in altri tempi, in altre epoche non avevamo, ma sono molto preoccupata e concentrata sulla riflessione su come usare davvero questo video, come fare le riprese in futuro se questo mezzo diventerà importante. Penso che sia meglio che il teatro ospite la televisione, non che la televisione omologhi a se stessa il video. E quindi c'è una riflessione molto coccente, vivace, forte intorno a questo tema. Chiudo qui. Sì, sì. Grazie per quello che hai detto. Anzi, penso che le tue parole vengano assolutamente a proposito, perché loro, che ormai sanno un po' come la pensi anch'io su questo tema, ma loro stessi si rendono conto che, insomma, non è come esserci tutti quanti e vederci in carne ed ossa, perché stiamo guardando appunto un vetro. Però non dico altro, perché sennò appunto mi incubisco e non è la sede giusta, ecco. Non ti incubire, no, no, no. Anzi, è molto quello che volevo dire, non è ecupezza, ma costruzione. Certo, certo. Difesa di un linguaggio e costruzione di un linguaggio nuovo, perché siamo di fronte proprio, abbiamo tra le mani uno strumento nuovo da usare però secondo le caratteristiche della nostra arte e non da omologare, perché così sembra facile, poi si risparmia tanto, non si aprono più le sale, non si assumono più le maschere, diventa tutto molto semplice se omologhiamo lo spettacolo alla replica. Però, ecco, quindi io non volevo assolutamente incupire, ma incoraggiare a dare voce al proprio scontente in forma costruttiva, ecco, creativa. Certo, no, 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 ti ringrazio Elena, anche perché appunto la tendenza alla cupezza è più mia in realtà, quindi mi taccio. E Marco invece? No, solo che... Marco sta piangendo. Mi sono molto emozionato rivedendo lo spettacolo, perché le cose ti restano dentro di più di quanto te ne accorgi, di più di quanto ci pensi quotidianamente e questo è uno spettacolo che abbiamo veramente tutti molto amato, perché è stata la prima volta che si è creata questa collaborazione con Roberto ed è stato un gruppo veramente molto, molto coeso, molto forte, continuiamo sempre a scriverci, a mandarci messaggi, poi insieme quasi tutti abbiamo fatto anche Mangiafoco e quindi si è creato veramente un gruppo molto compatto. Mi sono emozionato e anche poi devo dire che la cosa divertente è che ho rivisto delle cose, alcune cose che proprio non avevo neanche mai visto, perché poi durante le prove ci sono dei momenti in cui sei in quinta, ti stai preparando, com'è il lavoro nostro, ma appunto anche quello di Roberto, alcune soluzioni le trovi gli ultimi giorni e quindi poi non sempre c'è il tempo di andare in platea a vedere, a vedere gli altri, oltre al fatto che non vedi te stesso, insomma. Quindi è stato emozionante anche quello, insomma. Io detesto il teatro in streaming, lo dico molto chiaramente, perché secondo me il teatro non si può fare in streaming, però è chiaramente un mezzo che consente queste possibilità qui, questi scambi, questi incontri, però riallacciandomi un po' a quello che ha detto Elena, lo dico proprio ad apertura, comunque è una mia convinzione, proprio non è la stessa cosa, perché c'è un motivo per cui il teatro non si fa registrato, nel senso che va benissimo registrarlo, ma non è l'incontro dal vivo. L'incontro dal vivo è qualche cosa che proprio non può assolutamente essere sostituito da qualcun altro, perché è una corrente che si instaura tra chi è in scena e chi è in platea, che non è uguale tutti i giorni e quindi o questa cosa qui si sente, si capisce, oppure per quanto mi riguarda è proprio anche inutile parlarne, perché è come parlare linguaggi diversi. Però è molto importante, per esempio questo vostro progetto che ha ripercorso tanti momenti della teatrografia, della carriera di Roberto, è veramente molto importante, però è un'altra cosa, è un focus, è uno studio, è un'analisi e da questo punto di vista qui chiaramente è una cosa utilissima, ci consente ora di essere insieme anche se siamo distanti, in queste situazioni tremende che stiamo vivendo di distanziamento e quindi ben venga. No, ti ringrazio per le parole, effettivamente quello di cui anch'io mi sono resa conto è che diciamo la maggiore utilità di questo strumento, soprattutto se applicato al teatro, è proprio quella anche di consentire appunto la condivisione di qualcosa che ormai è rimasto nei nostri archivi. Ecco, quindi probabilmente l'università, nonostante tutte le controversie che avete benissimo enunciato, può essere anche un luogo appunto di utilizzo critico del mezzo, sempre che non si trasformi ancora una volta il rapporto fisico, quasi erotico in qualche modo, della lezione in presenza in università telematica, cioè nel senso questo vale per il teatro e ce lo siamo detto tante volte, vale anche per la didattica. Però non so se gli studenti stessi vogliono aggiungere qualcosa sullo spettacolo, direi, insomma di questo argomento abbiamo parlato tanto, è giusto continuare a parlarne, ma nutriamoci anche di quello che abbiamo avuto la possibilità di vedere questa mattina, nonostante tra l'altro appunto le difficoltà tecniche del mio computer nelle fasi iniziali della trasmissione. C'è qualcuno che ha scritto, vediamo, utente, ah tra l'altro vedo che qualcuno ha scritto utente, per favore l'ho già detto all'inizio, lo ripeto, mettete i vostri nomi, se no se siete studenti e devo prendere le presenze, non possiamo prendere le presenze, banalmente, e quindi siete assenti, fine della comunicazione tecnica. Questo utente, che non so se vorrà prendere la parola e denunciare a voce quello che ha scritto, scrive, una delle poche volte in cui vedendo il teatro in streaming comunque arriva alla profondità del lavoro. È un argomento molto delicato e in questo momento c'è molta confusione in giro, c'è una battaglia dello streaming, ma ahimè senza i mezzi e la funzione del mezzo perché la TV, il cinema, il web hanno dei palinsesti regolati da diverse cose. Il teatro rischia di mescolarsi allo sbaraglio, ma voi siete stati bravissimi e questa piattaforma è estremamente stimolante sia per chi studia che per chi pratica. e subito dopo un'altra studentessa scrive giusto appunto scusatemi se era spento il tablet per essere però appunto io davvero visto che insomma la discussione su questo lavoro presumibilmente continuerà anche domattina e magari appunto la leghiamo anche a quello che diremo prima di vedere Mangiafuoco perché insomma tra i due progetti c'è anche una parentela stretta da un certo punto di vista non fosse altro per appunto la questione che ha ricordato Marco che gli interpreti sono praticamente gli stessi solo Francesco Pennacchia non c'è Mangiafuoco probabilmente semplicemente perché aveva da fare lui e non perché non è stato voluto immagino è mancato con grande dolore suo e di tutti e di Roberto perché purtroppo Mangiafuoco ha subito uno slittamento rispetto al periodo in cui era stato annunciato perché era comprodotto insomma era fatto per Matera 2019 quindi poi sono subentrati il piccolo e la compagnia Lombardi Tiezi quindi lo spettacolo è slittato purtroppo ad un periodo in cui Francesco aveva già preso un altro impegno dal quale non poteva liberarsi certo immaginavo e quindi appunto come dicevo lascerei veramente la parola agli studenti ci sarà anche un attimo di silenzio imbarazzato ma ho imparato a non temere il silenzio anche con questo mezzo che ti dà proprio quell'ansia grazie Roberta io veramente no figurati mi a cavallo così ma vuoi anche mostrarti per me va benissimo che ti rimanga solo una voce però se vuoi mostrarti insomma decidi tu ho delle cuffie terrificanti sono veramente io ci provo adesso vediamo in che condizioni mi vedete aspettate un attimo ok ho le cuffie rosa bello bello io sono veramente tanto tanto curiosa di di chiedere a proposito del discorso che si stava facendo prima come prende forma lo spettacolo quindi come veramente nasce ogni gesto c'è qualcuno che propone c'è una direzione prevalentemente registica c'è una collaborazione tra gli attori e il regista e il regista parte con una sua idea già molto precisa mi è venuto in mente perché lo spettacolo è talmente oliato come un ingranaggio perfetto che mi viene lì da chiedermi ok come si è incastrata tutta questa roba vado io Marco vuoi andare tu guarda Roberto in questo e aggiungo anche qualcosina a quello che ha detto prima Silvia nel suo quadro molto giusto ma Roberto ha fatto anche attraverso sia il teatro comico che Mangiafoco un discorso anche sul teatro sul suo modo anche di concepire il teatro e su una cosa molto particolare che fa Roberto in questo caso in un momento nel quale ci si interroga tanto sul teatro che cosa sia la sua relazione col pubblico la relazione con gli artisti lui ha in qualche modo unito diverse famiglie artistiche che hanno in comune delle radici molto profonde e simili e allo stesso tempo una cosa che lui fa creando un progetto che è molto raro e molto bella è che il suo metodo come ci insegnava anche il nostro maestro Leo de Verdini e credo ancora di più seppur in maniera differente la grandissima perla peragallo il suo metodo è un non metodo quindi tutte le cose che tu hai enumerato esistono esiste una forte sua visione ma esiste anche una sua gioia nel creare delle compagnie di attori autori nell'incitare gli attori a creare ad esprimere a improvvisare secondo delle linee allo stesso tempo è molto presente e molto concentrato anche sul proporre lui stesso a delle visioni molto forti molto potenti e ascolta molto sia la ragione ma anche molto l'istinto l'intuito quello che accade nel momento portandolo poi però alle estreme conseguenze della raffinatezza dello studio della completezza quindi tutti capisco molto bene la curiosità e allo stesso tempo è molto difficile declinarla nei particolari perché ad esempio si potrebbe dire guarda quella scena è nata in quel modo in quel modo quella sono nati in modi molto diversi e abbiamo tutti in questo caso c'è stata anche una necessità è stata la prima volta che ci siamo trovati insieme a lavorare quindi sono state delle prove a tavolino veramente splendide in questa sala storica del piccolo dove Roberto ha giocato con noi a giocare al teatro quindi a ristrutturare ognuno quello che eravamo creare una forma di linguaggio comune sempre mutevole sempre in gioco sempre scivoloso sempre che ha creato un'enorme confidenza perché eravamo tutti già molto vicini artisticamente sia per per i nostri per quello per la famiglia dei nostri maestri ma anche per proprio per delle affinità in questo è stato molto molto alchemicamente illuminato Roberto ha messo insieme proprio delle nature che stavano ben insieme e anche lì credo che la sua scelta dovrebbe dirlo lui ma credo che partecipi sia di istinto che di desiderio che di passione che di ragionamento perché è questo molto bello lavorare con lui dare la possibilità di osservare molto bene questa commissione di facoltà che lui armonizza in una scelta insieme anche a un coraggio perché noi siamo arrivati alle prove ci aveva chiesto di memorizzare tutto il testo perché non avevamo molto tempo e quindi abbiamo cercato il più possibile di arrivare pronti ma pronti anche come avete visto a far esplodere tutto a destrutturarlo a buttare via tutte le frasi imparate da memoria e trasformarle in altro e credo che la bellezza anche di questo procedimento che è veramente si spinge fino alla cura del più piccolo particolare ma con una forma di libertà estrema le due cose insieme sono entusiasmanti da vivere e terrorizzanti allo stesso tempo ma se no così non vale la pena tra l'altro e quindi sia chiede una grande partecipazione sia umana che professionale che tecnica che emotiva e senza quello infatti io guardando tremavo perché si vede come sia importantissimo esserci sempre il lavoro che viene fuori non ti consente fughe non ti consente nessun lavoro teatrale però a maggior ragione questo chiede proprio una trasparenza una presenza una dedizione che pur nella precisione delle esecuzioni dei particolari chiede sempre una forma di improvvisazione per ricreare ogni volta lo spettacolo e il lavoro quindi adesso non voglio prendere troppo tempo rispetto a Marco poi magari ci vediamo e mi domando anche come sarebbe come ecco forse mi domando se questo mezzo che stiamo usando potrebbe essere utile se usato da persone competenti nell'illustrare anche momenti di prova perché tante volte si è fantastica nel far venire le persone alle prove ma le persone vere fisiche alle prove sono una cosa difficile da eludere anzi una delle cose che abbiamo sperimentato tutte le quali non eravamo abituati al piccolo è che ci sono sempre molte persone in platea e quindi abbiamo imparato a essere liberi anche con molte persone in sala cosa la quale noi eravamo abituati per la nostra della nostra modo di lavorare ad essere ad avere delle prove molto più intime però forse qualche ripresa qualche buttola delle cose sapendo che probabilmente la maggior parte delle delle intuizioni sono idiozie però provando a immaginare assolutamente no anzi pure di questa cosa delle prove abbiamo un po' parlato nei giorni scorsi insomma il discorso è emerso quindi vai senza timore sì perché è come se avessimo bisogno di ritrovare dei fondamentali insieme chi studia il teatro il pubblico noi che lo facciamo ritrovare un patrimonio comune che è stato un po' disgregato per tantissime ragioni perché il teatro è diventato un po' più marginale pur potente e quindi ritrovare anche poter sentire fare un percorso di conoscenza per cui anche guardando lo spettacolo si hanno degli strumenti in più di piacere non solo di conoscenza ma anche proprio di piacere e di condivisione degli strumenti che stiamo usando e credo che questo faccia parte tutta questa riflessione fa parte anche di questo fiume di pensieri che ci sono stati che sia stato possibile condividere e vivere insieme nel percorso che è andato dai primi momenti di contatto per fare teatro comico fino all'ultima straziante replica di Mangiafoco e queste cose rendono lo spettacolo vivo entrambi gli spettacoli non hanno avuto una circuitazione e questa cosa l'accetto ovviamente ma io no io non l'accetto questa cosa mi dispiace perché non ti volevo incupire ulteriormente ma mi dispiace perché penso che sono spettacoli come il vero teatro nati per vivere crescere cambiare nella loro vita anche in mezzo a pubblici diversi in luoghi diversi e mi rimane la grande curiosità di sapere che cosa sarebbero diventati nel corso come sono cambiati poi moltissimo ed è la prima replica quella che avete visto voi che forse era una delle ore il lavoro è cambiato enormemente ma proprio è tanto e quindi ecco questo abbandono hanno avuto la fortuna tutti e due gli spettacoli per fortuna dice appunto la fortuna per fortuna di avere avuto entrambi una lunga permanenza al piccolo e questo è fondamentale ed è importante dirlo anche a persone come voi così giovani perché c'è una politica ormai da parte del ministero che non ho nessuna paura di dire che è assolutamente criminale perché i teatri di produzione sono invitati a produrre senza in una maniera addirittura bulimica continuamente spettacoli che muoiono subito dopo la produzione e non tutti fanno una tenitura di un mese o più di un mese come abbiamo fatto noi questo è una è completamente contrario al concetto stesso di teatro che vive della ripetizione della presenza dell'incontro con pubblici diversi dell'adattarsi a teatri diversi la vita la peculiarità del teatro è questa è solo questa e quindi chiaramente e noi abbiamo avuto la fortuna di avere delle lunghe permanenze sia col teatro comico che con Mangiafoco però è mancato quello che dice Elena rispondendo a Roberta è un po' sempre difficile dire come sono le prove di uno spettacolo intanto dipende dagli spettacoli con Roberto le prove sono sempre una sorpresa perché Roberto ha avuto una formazione che poi abbiamo avuto anche io ed Elena noi ci siamo formati con Leo lui con Perla e quindi sono sono diciamo artisti che costruiscono lo spettacolo con un'idea di partenza ma con la massima apertura cose che poi si definiscono nel corso dell'improvvisazione in particolare nel teatro comico avrete notato che c'è una differenza abbastanza netta tra il primo tempo e il secondo il primo tempo è molto più basato sul testo perché Roberto era partito da questo testo qui che tra l'altro è un testo di dascalico di Goldoni non è un testo particolarmente diciamo felice dal punto di vista della scrittura perché è un testo cioè non felice ma diciamo è un testo con cui Goldoni teorizza in qualche modo la sua riforma del teatro e quindi è un testo molto metateatrale questo ha permesso poi a Roberto di esplodere nella seconda parte con tutta quella che è la sua poetica più visionaria infatti il testo rimane ma è completamente più frammentato d'altra parte la prima parte era assolutamente necessaria perché la seconda avesse poi questa possibilità altrimenti rischiava di diventare una serie di capito di scene di citazioni in cui poi uno spettatore normale si perde e quindi dopo un po' poi magari stacca anche quindi prima è stato costruito diciamo così il bacino sul quale poi e quindi lo spettacolo che è stato come diceva Elena provato all'inizio molto a tavolino da un certo punto in poi le ultime scene a tavolino non sono quasi state più fatte anche perché cambiavano venivano sintetizzate sintetizzate in una maniera visionaria oppure isolati i personaggi per esempio adesso faccio l'esempio che riguarda me quando arriva Eleonora c'è quel dialogo con Marco Manchisi ma in realtà quello è un dialogo con tutta la compagnia Eleonora non è mai sola che fa un monologo come non esisteva la danza che fa Elena come non esisteva stella sospesa in alto oppure tutta quella scena sempre il secondo atto che ricorda un pochettino addirittura delle cose di Cantor quindi erano scene che venivano provate su sollecitazioni che dava Roberto su improvvisazioni che facevamo noi ma sempre chiaramente con una visione da parte sua molto chiara che come diceva Elena è approfittando del fatto che il testo è una riflessione metateatrale teatro del teatro allora Roberto ha potuto chiaramente far affiorare anche tutto quel teatro che ha nella pelle che ha amato e anche adattare le scene a noi attori a seconda di quella che era la nostra esperienza che lui conosceva benissimo e per me è stato molto divertente una sensazione che ha avuto molto forte perché come ricordava prima Silvia noi ci siamo formati con Leo abbiamo lavorato con Leo per 15 anni poi abbiamo intrapreso una nostra strada che memore del grande fondamentale insegnamento di Leo al quale io sarò grato veramente per tutta la vita e anche per altre tre successive però poi ci siamo anche staccati abbiamo cominciato anche per esempio a fare dei testi dall'inizio alla fine che con Leo è capitato due tre volte in 15 anni con i giganti della montagna con qualche Shakespeare ma neanche proprio completi perché aveva un altro modo di lavorare noi volevamo sperimentare anche quella cosa lì magari appunto una rilettura di un testo classico ma mantenendo proprio il testo dall'inizio alla fine tornare a lavorare con Roberto per me a un certo punto era come se avessi fatto un salto anni indietro e avessi ricominciato a lavorare col metodo anche un po' di Leo anche se non è poi neanche proprio la stessa cosa perché chiaramente Roberto ha elaborato poi la sua poetica e questo devo dire che è molto stimolante fare questo mestiere qui cioè il fatto di non chiudersi in uno schema per cui dire il mio metodo è questo il metodo per un attore non parlo solo per un attore io penso anche per un teatrante in genere per un artista per un regista è avere la massima apertura apertura chiaramente che risponda all'ispirazione che hai dentro ma diciamo quando quando ci si comincia a chiudere dire il mio teatro è questo io sento che c'è un campanello d'allarme che gli artisti dovrebbero sentire molto forte perché il teatro è una porta aperta e non è una porta chiusa lo dice Peter Brook che non è l'ultimo arrivato ma comunque è un fatto è fatto di incontri è fatto di commissioni è fatto di revival e di scoperte nuove ed è la cosa bella è il fatto per cui in inglese si dice play no? è come un po' veramente come giocare è un essere bambini e come quindi come i bambini curiosi e non timorosi di lanciarsi nell'incredibile no certo certo poi sai è anche questo un discorso che in parte è venuto fuori le volte scorse sono molto d'accordo con quello che tu dici sul non trincerarsi dietro la propria idea del teatro anche se mi verrebbe da fare una precisazione cioè forse è giusto dire non dire il mio teatro è questo bensì la mia visione del mondo è questa che è poi quello che fonda diciamo l'unicità dello sguardo di Roberto Latini delle belle bandiere di Leo De Berardinis eccetera 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 tra l'altro vi ringrazio per i vostri interventi veramente chiari e anzi oserei dire adamantini perché siete riusciti veramente a rispondere alla domanda di Roberta che ha posto Roberta sul processo di lavoro ma avete anche penso già risposto alla domanda di Manuela in chat che chiedeva come risuonasse l'esperienza del teatro di Leo in questo lavoro e nel rispondere ci avete dato anche una grandissima lezione di drammaturgia io credo nel senso che comunque avete cominciato appunto a enucleare anche quali potrebbero essere delle ragioni di un certo modo di lavorare su un testo come questo e vorrei proprio per questo evitare di intervenire e magari porre io una domanda agli studenti cosa che ogni tanto faccio giusto per rompere le scatole e chiedere sì appunto voi che dite dai che fra poco andiamo a mangiare quindi su io in realtà volevo porre una domanda però non vorrei che suonasse come una provocazione però parlando appunto è interessante scoprire tutto quello che sta dietro uno spettacolo e io stessa sto cominciando ad apprezzare un po' di più il lavoro di di forte braccio teatro adesso che so quello che ci sta dietro e quindi a questo punto mi chiedo cioè secondo vabbè secondo Elena secondo Marco il teatro di latini è più per gli addetti ai lavori o è per tutti guarda facendo questa domanda capisci che andiamo dentro una questione molto molto profonda e importante io credo di poter dire anche a nome di Roberto che il teatro quando si fa si fa per tutti si fa per sé e per tutti è come se si lanciasse un grido come se si o quello che vuoi o si sussurrasse una frase al vento o metti un messaggio nella famosa bottiglia credo che sia per tutti forse ti inviterei a cercare dentro la tua domanda quello che ci sta senza paura di formalizzarla con più chiarezza e nei particolari ti spiego perché perché hai cominciato dicendo non vorrei essere che fosse una provocazione non lo è e però il modo in cui hai formulato la domanda prova a farlo in modo che mi aiuti a risponderti meglio cioè nel senso che probabilmente denota anche una forma di disagio iniziale nel comprendere certi segni nel lasciarsi trasportare da certi segni delle domande che possono venire fuori allora forse se vai un po' più nei particolari per noi è più facile andare dentro gli argomenti allora io ci provo però non so se ci riesco perché è più una sensazione a pelle che una sensazione razionale come dire io adesso che so il lavoro che fa per esempio Latini con l'attore e questo mi fa apprezzare molto di più quello che ho visto nello spettacolo che è pieno di immagini bellissime però per esempio è fatto di una recitazione molto poco naturalistica è fatta piena ci sono tanti non simboli però comunque immagini poetiche diciamo e allora io mi chiedo io che vado spesso a teatro e poi ho anche lo studio eccetera riesco ad apprezzare di più questo aspetto ma chi magari non ce l'ha questo retroscena riesce ad apprezzare tutto quello che che gli si dà forse questo potrebbe inserirsi nel discorso che abbiamo appena lasciato ora e cioè sul fatto che molto spesso il teatro non con altre arti sono corredate ma forse l'arte in genere mi viene da dire mi assumo la responsabilità così di dire questo che l'arte andando verso sempre più verso una forma di mercato cosa che c'era anche prima perché non è che se guardiamo al teatro dell'ottocento addirittura guardiamo i biglietti venduti però diciamo forse e si basavano anche sui biglietti venduti un universo per noi completamente difficile da comprendere molto diverso però mi domando andando verso quanto patrimonio comune si è perso sulle arti nel senso che noi magari alcuni studiano molto bene hanno tanti strumenti per studiare le arti ma altri no quanto poco viene praticata la musica la recitazione il canto nella vita quotidiana della gente perché alla fine le regole i fondamentali artistici quanto poco si disegna all'elementare un pochino le medie poi basta sono cose che proprio solo se dopo diventa tutto specifico azzardo sono elementi di riflessione che lancio quanto invece avere il diritto rivendicare il diritto di avere nella propria vita una pratica artistica anche non significa che ognuno diventa maestro ognuno ne fa la professione ma pian piano sentire quanto lo studio è importante ma anche una pratica che ci fa sentire nel corpo nei sensi nelle emozioni ci fa comprendere il teatro anche quello più azzardato ti dico gli impressionisti erano uno scandalo quando sono arrivati nessuno avrebbe pagato due lire per quei quadri la gente urlava lo scandalo ma anche quando la Duse cominciò a recitare era lo spettro era il demonio del botteghino fu cacciata via male parole dal pubblico all'inizio della sua carriera queste sono cose poi leggendari anche magari un po' infiorettate però una base di verità probabilmente c'è allora mi domando c'è una parte di innovazione di stranezza di particolarità che scardino in certi momenti il linguaggio al quale siamo abituati e ne immette altri tipi di energie sconcerta sposta però c'è anche questa cosa viene può essere rifiutata culturalmente ma può essere apprezzata se abbiamo intimamente fisicamente gli strumenti per godere dell'arte se non li estromettiamo dalla nostra vita come un certo sistema di mercato ci spinge a fare io non so se è una cosa voluta o una cosa che avviene naturalmente in certi tipi di evoluzione della società però mi sembra una grande 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 perdita cioè perdere i momenti nei quali si suona si canta nei quali ognuno studia uno strumento o scrive recita prova secondo me questa è una grossissima perdita nella nostra vita quotidiana come esseri umani e a questo proposito anche Roberto non scinde il fatto del talento della stima che può avere per il talento degli attori il grande amore che ha per gli attori non discinde mai anche da dal coltivare una qualità della relazione umana che non è né buonismo né buona educazione niente di tutto questo è proprio corrente vera che sposta le energie verso un'energia costruttiva accogliente aperta indamorata rispetto al contrario allora mettendo insieme queste forme di provocazione benevola che mi viene di voglia di lanciare quanto questo tipo di domande che tu ti fai sarebbero intuitivamente più risolte se noi avessimo modo di praticarla di più quest'arte e non avessimo sempre e non fosse come fatalmente rischia di diventare una fruizione legata soltanto ai media e alla loro possibilità di essere sfruttati economicamente in maniera con grandi numeri quindi io lo rilancio e poi c'è un'altra cosa che lo sguardo di Roberto in questi lavori è molto è sempre si pone anche la questione di riscri rianalizzare ritrovare di confrontarsi con una storia del teatro che molti di noi non conoscono molti di voi faticano anche a conoscere proprio perché è uscita dal patrimonio comune delle conoscenze e quindi magari la voce della Lazzarini all'inizio del secondo tempo non risuona immediatamente come può risuonare per altri quando parlo proprio di necessità calda necessità accogliente affettuosa ricca anche controversa di ricostituire un patrimonio comune di conoscenze è anche questo credo che forse non voglio mettere nella testa di Roberto sa parlare per se stesso però il mio piacere nel lavorare in questa compagnia è anche proprio questo di sentire come ci colleghiamo alla tradizione dei nostri maestri che a loro volta pur essendo innovativa noi siamo stati quando lavoravamo con l'Eola la Pergola siamo stati insultati scendevamo in pubblico per ballare col pubblico con una famiglia flato proprio così di scherzo gioco amore mentre andava la canzone fammi quello che vuoi indifferentemente e il pubblico della Pergola apparentemente teoricamente colto con strumenti preparato era imbestialito o abbandonava la platea ci insultava si sottraeva fino a creare un caso e la Pergola si è riempita di tutti invece i fan di Leo che andavano a sostenere questo nuovo linguaggio nuovo poi erano decenni che Leo parlava questo linguaggio non era non solo il fan di Leo era quell'altro tipo anche tutto l'altro pubblico per dire sì certo certamente certamente quindi ecco siamo sempre su un crinale dove appena ti viene la tentazione di definire una verità sfuggi dall'altra parte ma mi viene proprio voglia di affermare questo bellissimo intento di legarsi alla tradizione e cambiarla continuamente essere liberi di entrare in questo enorme parco giochi meraviglioso di quello che è stato prima di noi e di aprire lo sguardo il più possibile lo sguardo e il cuore abbiamo bisogno anche di allenamento gustare e praticare le arti tanto quindi come veniva prima di essere dentro le prove essere dentro un qualche cosa partecipare dei laboratori pratici anche se si vuole studiare sentire ecco guarda Elena mi aggiungo un secondo prima di lasciare la parola a Marco magari per diciamo le ultime considerazioni Cristina io ti ringrazio anche per la domanda perché comunque come ha già detto Elena sollevi una grande questione e secondo me il punto insomma me l'hai lanciato tu Elena questo appiglio non è tanto recuperare lo studio delle arti ma recuperare lo studio fisico delle arti cioè sperimentare con il corpo ed è una cosa che purtroppo anche a scuola si fa sempre meno uno può magari sapere tutto poi della storia del teatro ma non arrivare a comprendere fino in fondo proprio perché non ne ha esperienza fisica cioè il suo corpo non sa che cos'è quella cosa lì e poi come ho già avuto occasione di dire durante questi incontri rispetto alla questione sul fatto che appunto possa essere anche questo e in generale il lavoro di Roberto più apprezzato da i cosiddetti addetti ai lavori mi viene da dire come ho già detto che il teatro di Roberto non è un teatro facile purtroppo anche tra i teatranti attivi spesso in Italia c'è tanta gente a mio parere che non fa teatro bene come lo fa Roberto Latini e che fa cose insomma più accessibili per me questo spettacolo adesso intendiamoci è molto accessibile però accessibile a un livello umano come dire non a un livello di speculazione intellettuale non solo perché poi appunto essendoci vari livelli c'è anche per chi cerca quello la possibilità di accedere da un altro punto di vista concludo dicendo che secondo me quando l'arte e il teatro sono grande arte grande teatro non esiste addetti ai lavori o no sono per tutti ma sono anche per nessuno per citare quello che scriveva qualcuno quindi sì magari non sono per tutti ma lo sono è uno strano paradosso aggiungo solo una cosa Silvia intanto ringrazio Cristina per questa domanda perché non è assolutamente una domanda fuori luogo perché purtroppo c'è anche tanto teatro che parla a se stesso e basta e noi siamo pieni di momenti di teatro autoreferenziale perché il teatro si deve sempre porre il problema che non è fatto per chi lo sta facendo e gli piace ma deve avere la comunicazione se manca la comunicazione uno può essere un genio ma ha fallito perché la comunicazione deve arrivare detto questo bisogna intendersi perché ci vuole anche un'educazione allo sguardo il pubblico in teatro deve essere attivo non è passivo il pubblico è abituato a considerare il teatro il pubblico dico in genere c'è il rischio di essere abituati a considerare il teatro vado a sedermi nella poltrona al piccolo alla pergola un'altra cosa e vedo quello che vedrei in televisione cioè una cosa che non mi pone nessun stimolo al pensiero e alla crescita io voglio vedere quello che mi aspetto di vedere allora come è vitale che l'attore il teatrante si mantenga vivo e curioso così è vitale che il pubblico stesso vada a teatro e sia curioso non è che si deve preparare e leggere prima il testo ma uno spettatore che dopo dieci minuti già dice non ho capito niente è uno spettatore che sta insultando prima di tutto se stesso taci arriva cerca di farti arrivare qualcosa che non ti aspetti quello magari non lo capirai ma ti apre uno spiraglio di curiosità che potrai andare a sperimentare da un'altra parte altrimenti tutto si ferma lì non faccio l'esempio di Roberto facciamo l'esempio di Leo al quale una persona delle istituzioni che doveva dargli i contributi disse vabbè ma quant'è che poi deve durare questa ricerca 5-6 anni poi quando è che comincia il teatro vero allora capisci che una persona che parla di art di una forma artistica e pensa che la ricerca ha un tempo di 4-5-20-30 anni è già fuori la ricerca è continua perché noi viviamo e non dobbiamo rinnegare il passato Leo stesso faceva delle riletture di classici gli spettacoli di Roberto sono pieni di citazioni del teatro ma quello del passato ci rivive dentro e si adatta all'anima moderna che noi siamo ma se da parte del pubblico c'è un atteggiamento di andare sedersi col cervello assopito allora è chiaro che non ci può essere quell'incontro lì detto questo devo dire che esistono tanti che su questo principio qui non si rendono conto che per chi qualcuno ti ascolti bisogna dargli un appiglio bisogna portarlo verso altrimenti non puoi essere assolutamente autoreferenziale quindi l'equilibrio però è molto delicato perché dipende proprio da questa armonia che si deve creare tra attore e spettatore per cui in realtà l'attore è attore intendo non solo attore come ruolo attore cioè colui che agisce sul palcoscenico quindi anche il regista il teatro in genere ma anche dall'altra parte lo stimolo deve essere attivo e la differenza lo fa proprio il fatto che uno stesso spettacolo una replica viene in un modo e una replica viene in un altro non perché magari gli attori hanno il raffreddore e sono stanchi ma perché i pubblici sono diversi e tu senti che c'è un pubblico che tra virgolette ti tira e quindi tu dai dai di più e scopri con quel pubblico e si crea un'armonia e si creano quei momenti di assoluta magia che appunto sono possibili soltanto in presenza perché è una cosa che sta avvenendo lì ed ora in quel momento lì e invece ci sono pubblici pubblici che chiaramente dove praticamente tu resti da una parte e quello resta dall'altro un po' di incontro c'è un po' non ce n'è e come diceva Silvia prima rischi di fare delle cose scontate che sono di ti do il contentino ti do quello che vuoi ma quello non è arte capito può essere anche una forma di intrattenimento degnissima ma non è una non è una ricerca teatrale non è uno strumento di crescita di quella forma di rappresentazione di arte volevo aggiungere una piccola cosa perché ci stiamo avvicinando è molto interessante che possiamo che è molto interessante collegare che siamo collegati come presenza anche con i nostri compagni di lavoro domani e questo collegamento con la visione che avremo domani rievoco una parola che avete già usato perché è una chiave del teatro di Roberto cioè l'immaginazione il teatro e le arti come una potente un potente motore di immaginazione e immaginazione significa proprio questo anche avere questi punti interrogativi che si accendono cos'è dove come quando come mi risuona ovviamente come giustamente diceva Marco dobbiamo andare lì come pronti a un'esperienza a un'esperienza di piacere di sconvolgimento di interrogazioni ma è un'esperienza per cui i nostri pezzi volano in aria e quindi vi inviterei ad attivare l'immaginazione quando vedrete domani Mangiafoco per pensare a quanto può essere collegato come processo artistico appunto quello che dicevo dal primo giorno delle prove di teatro comico fino allo spettacolo Mangiafoco e pensare anche a un'altra cosa a che cosa era per Roberto per noi anche entrare in un luogo come il piccolo con tutta la memoria che ha dentro e pian piano affermare con coraggio un linguaggio nuovo che non si riferisce non è soltanto una riviviscenza di antichi maestri ma qualche cosa che diventa nuovo non perché il nuovo sia o il presente sia per forza migliore del vecchio ma perché diventa un'assunzione di responsabilità gioiosa intellettuale fisica un'assunzione di responsabilità del proprio momento del tempo che si sta chiedendo al pubblico e vivendo profondamente sul palco quindi è un percorso che è stato molto bello affrontare anche insieme a Roberto di come il viaggio dentro una tradizione fisicamente dentro un luogo ma anche dentro una tradizione ha portato e dentro il senso del nostro lavoro e di quello che ci è stato consigliato maestri è arrivato in continuità a dei risultati secondo me sempre più limpidi anche emotivamente limpidi per qualsiasi tipo di pubblico posso dire e per nessuno consigli diciamo in chiusura vorrei anche precisare una cosa che ho detto prima perché non vorrei essere equivocata quando dico che il grande teatro parla a livello umano mi ripeto perché questa cosa l'ho già detta non intendo dire che uno deve abbandonarsi passivamente al flusso anzi l'ha ricordato bene Marco lo spettatore deve essere attivo se uso l'aggettivo umano lo uso semplicemente in contrapposizione all'aggettivo spettatoriale come dire bisogna tornare a essere persone e non essere insomma i critici della situazione che si portano dietro tutta la propria sovrastruttura cioè da persone anzi ragioniamo molto meglio che non da critici siamo liberi auton non omologati e sorprendenti oltre che sorpresi dico l'aggettivo che ho usato umano secondo me è geniale perché il teatro è umano a me è capitato come spettatore di andare a teatro di emozionarmi e non so perché ma quello vuol dire che quel teatro funziona capisci non è che per forza devo avere il problema che tu adesso hai citato i critici purtroppo il problema di molti critici è che equivocano il fatto che la loro interpretazione intellettuale deve essere aliena da un momento emozionale il teatro ma tutte le arti sono così se di fronte a un'opera artistica non provi un momento di emozione ma che ci vai a fare non ha senso è un'esperienza del cuore e del cervello l'arte non solo del cuore o solo del cervello di entrambi è un momento in cui l'uomo è intero in quella fruizione come è intero in quella dedizione per chi lo fa se c'è solo il cervello non è teatro è un saggio è una cosa scientifica non ha nessun interesse artistico e poi la grande scienza voglio dire di cuore ne ha molto e coraggio anche aggiungo esatto grazie Elena è una precisazione doverosa va bene io insomma non vi rubo altro tempo anche perché fortunatamente ci rivediamo domani mattina anzi vi ringrazio doppiamente per questa doppia presenza per l'appunto e ringrazio anche gli studenti che oggi hanno sopportato anche i miei disguidi tecnici con questa nuova piattaforma buon appetito e a domani grazie ancora a domani ciao 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 Silvia grazie grazie a te e a voi ciao ciao Silvia ciao 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 Grazie.